Musica Vittime sul lavoro, indagine conoscitiva in terza commissione Approvata la legge che sostiene la filiera del legno Unanimità per il Disability Manager Nuova edizione di Consiglio News ben trovati In occasione della commemorazione in aula delle vittime sul lavoro L'Assemblea ha dato il via libera all'indagine conoscitiva in terza commissione Mirata ad acquisire notizie, informazioni e documenti Un ordine del giorno che impegna la terza commissione a svolgere un'indagine conoscitiva Diretta ad acquisire notizie, informazioni e documenti Per programmare politiche regionali mirate a prevenire e diffondere la cultura della sicurezza Anche attraverso l'attivazione di progetti di sensibilizzazione Rivolti agli studenti e alle studentesse del Piemonte Per far crescere cittadini consapevoli e preparati Nella convinzione che la conoscenza aiuta a prevenire le morti sul lavoro E' il documento presentato come primo firmatario dal Presidente del Consiglio regionale Stefano all'Asia E' approvato all'unanimità dall'Aula di Palazzo Lascaris In occasione della 73esima giornata nazionale delle vittime degli incidenti sul lavoro Celebrata l'8 ottobre a cui l'Aula ha dedicato un momento commemorativo Dopo le leggere riflessioni che sono state negli anni scorsi Purtroppo negli ultimi due anni c'è stato un aumento Poi nel 2023 abbiamo già superato i morti purtroppo dello scorso anno, del 2022 Dobbiamo fare attenzione, capire veramente quali sono le motivazioni per cui avvengono questi incidenti Rendere consapevoli i lavoratori e poi adeguare le norme Presenti alla commemorazione in aula anche Antonella Onofri, direttore dell'INAIL Roberto Sardo, Presidente regionale Piemonte Giulio Garello, Presidente territoriale Torino dell'Associazione Nazionale Fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro È una guerra, tre morti al giorno Più di 200 operai che vengono colpiti da malattia professionale al giorno E un infortunio sul lavoro ogni 53 secondi Quindi, infatti riflettevo su questo Nel minuto di silenzio che è stato fatto durante la commemorazione in Consiglio regionale Probabilmente qualcuno ha avuto subito un'infortunio Sul tema è stata respinta una mozione Primo firmatario Sean Sacco, Movimento 5 Stelle Che intendeva impegnare la Giunta regionale ad attivarsi Nei confronti del Governo e del Parlamento Per istituire una Procura Nazionale del Lavoro Anche a partire dal disegno di legge 127 Depositato al Senato sull'argomento Il Consiglio regionale condanna unanimemente Gli attacchi terroristici di Hamas contro la popolazione israeliana La convergenza, dopo un articolato dibattito È stata trovata su un ordine del giorno Ispirato dal Comitato Diritti Umani e Civili E illustrato da Sara Zambai A Lega Vicepresidente del Comitato stesso Il documento esprime vicinanza alle vittime Condanna fermamente l'operato criminale del gruppo terroristico E dei gruppi adesso collegati E ribadisce il categorico rifiuto della violenza Come strumento di azione politica Impegnando Giunta regionale e Comitato A sostenere iniziative di pace A favore del popolo israeliano E degli innocenti palestinesi L'Aula in precedenza aveva approvato Altri tre ordini del giorno A firma Alessandro Ste Collega Domenico Rossi Partito Democratico E sarà di sabato Movimento 5 Stelle Contro tutte le forme di violenza E di condanna dell'aggressione subita Da studenti e studentesse Al campus in Audi dell'Università di Torino Sostenere e valorizzare la filiera del legno Questo è l'obiettivo del provvedimento Approvato a maggioranza dall'Aula Promuovere e valorizzare la filiera del legno in Piemonte È l'obiettivo della legge regionale Approvata a maggioranza dall'Assemblea Legislativa La legge prevede non solo sviluppo della filiera corta E dell'uso del legno di provenienza regionale Ma anche la promozione delle esportazioni Dei prodotti industriali regionali E l'innovazione tecnologica e digitale Per la sostenibilità ambientale ed energetica Il testo è stato presentato Da Paolo Bongioanni, Fratelli d'Italia La seconda relazione di maggioranza È stata svolta da Matteo Gagliasso, Lega Questa legge aiuta tutti i momenti della lavorazione del legno Partendo da quello primario, quello della raccolta Quello dei boscaioli Abbiamo 4.000 addetti che operano sulle nostre montagne Nei nostri boschi Poi si passa alla lavorazione storica Quella del grande patrimonio piemontese Dell'artigianato Infine quello industriale Quello delle segherie industriali Per le quali sono previsti i contributi importanti Per l'innovazione Per la formazione degli addetti Silvana Accossato, Liberi Uguali Verdi E Monica Canalis, Partito Democratico Relatrici di opposizione Hanno avuto un giudizio critico Sottolineando la priorità delle politiche forestali E la necessità di una filiera completa Che comprenda anche la ricerca Per la produzione di idrogeno dagli scarti di legno Era più opportuno focalizzarsi Sul punto debole del Piemonte In materia forestale Che è la difficoltà a spendere al meglio I fondi europei In particolare il FESR Il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale Nella discussione generale Maurizio Marello, Partito Democratico Ha espresso dubbi sulla copertura finanziaria Mentre a favore si sono espressi Paolo De Marchi e Alberto Preioni Lega Che hanno considerato la legge Un utile stimolo iniziale Questo è un elemento per certificare Da una parte il legno da opera Il legno per i mobili E dall'altra stimolare le aziende Stimolare il pubblico, il privato Per coltivare correttamente i nostri boschi Via libera all'unanimità La legge che istituisce la figura Del Disability Manager La regione entro 90 giorni Avrà il Disability Manager Una figura che sarà chiamata A sostenere l'autonomia Delle persone con disabilità E garantire l'applicazione Delle norme per il diritto Al lavoro dei disabili E quanto prevede la proposta di legge Promossa dal capogruppo moderati Silvio Magliano Approvata all'unanimità Tutte le era Coloro che lavorano In Regione Piemonte E hanno delle disabilità Per fare in modo che il loro Lavoro sia il più adeguato possibile La loro competenza E le loro capacità Nello stesso tempo Monitorerà Che il numero di persone Con disabilità Necessario da assumere Per il rispetto delle norme Sia attuato in Regione Piemonte Relatrice di maggioranza Alessandra Biletta Forza Italia È una figura che giocherà Un ruolo fondamentale Come facilitatore Per le persone con disabilità Creando una rete Che garantisca L'accessibilità A queste persone Ai servizi E all'inclusione Quindi sociale E lavorativa Olimpiadi del Bob A Cesana Questo è il focus Dell'interrogazione Che il consigliere Bertola Ha rivolto All'assessore Ricca Nel corso Dei Question Time La Regione Piemonte Sta trattando Con il governo Per la pista Da Bob Cesana Pariol Come ipotesi Alternativa Alla pista Prevista a Cortina Per i giochi Olimpici Invernali 2026 Questo è l'oggetto Dell'interrogazione Che il consigliere Giorgio Bertola Gruppo misto Europa Verde Ha rivolto All'aggiunta regionale Nell'ambito Dei Question Time L'assessore Marco Gabusi Leggendo in aula Una nota Dell'assessore Allo sport Fabrizio Ricca Ha confermato Che l'aggiunta È in contatto Con il ministro Dello sport Per candidare La pista Di Cesana Pariol Per le competizioni Dei giochi Olimpici Invernali 2026 In alternativa A quella Di Cortina La risposta Della giunta Desta preoccupazione Ha commentato Il consigliere Bertola Ci sono Secondo il consigliere Alternative Sostenibili A livello Ambientale Ed economico Esistenti E funzionanti Che si trovano Nelle località Di San Moritz E Innsbruck Per questa edizione È tutto Prima di salutarvi Vi ricordo Che sul sito cr.piemonte.it Trovate notizie E aggiornamenti Sull'attività Del consiglio regionale Del Piemonte Arrivederci